Ultimo test per la nazionale di Luciano Spalletti prima dell'inizio di 2024 euro Dopo lo 0-0 contro la Turchia, gli azzurri sono impegnati nell'amichevole contro la Bosnia che servirà al CT per provare le ultime cose prima del debutto in Germania contro l'Albania. Le probabili scelte di Luciano Spalletti per Italia-Bosnia Spalletti deve fare i conti con due forfee. Non saranno della partita infatti Barella e Meret che sono alle prese con dei problemi fisici. Punto si parte con il 3-4-2-1 con Darmian, buongiorno i calafiori a protezione di Donnarumma, a centrocampo. Giorginho e Fagioli, affiancati sulle fasce da Cambiaso e Bellanova. In attacco, Scamacca sarà il centravanti, supportato da Chiesa e Frattesi. Italia, 3-4-2-1, Donnarumma, Darmian, buongiorno, calafiori, Bellanova. Giorginho, Fagioli, Cambiaso, Chiesa, Frattesi, Scamacca. Allenatore, Luciano Spalletti.Dove vedere Italia-Bosnia in TV e in streaming. La partita tra Italia e Bosnia verrà trasmessa in esclusiva e in chiaro su Rai 1 alle ore 20.45. Per vedere la partita in streaming, la Rai permetterà di vedere la partita sul proprio servizio Rai Play, utilizzabile su smartphone, tablet e PC. Grazie a tutti.